I want to go back Ben tornati ragazzi e ragazzi su questo nuovo video, io sono il vostro Stefan Uzza e oggi siamo sul quarto capitolo di A Plague Tale ragazzi ovvero dobbiamo affrontare il quarto capitolo che sarebbe l'apprendista allora dovremmo essere vicini a trovare il dottore secondo me il dottore sa qualcosa che sapeva anche la madre quindi c'è qualcosa di strano con il fratello, con Hugo e non so tuttora che cosa sia comunque ragazzi se vi siete persi le puntate precedenti le potete trovare nell'apprendista sul mio canale o sotto nella descrizione e come sempre vi ricordo di lasciare un pollicione di commentare e di condividere vi lascio al video e buona visione va bene ragazzi siamo sul quarto capitolo l'apprendista Amicia e Hugo riescono appena in tempo a fuggire dal monastero e a non essere sopraffatti da ordi di ratti che li aspettavano che è la prima volta che li vedevamo fuggono al tramonto consapevoli che i ratti sarebbero stati spaventati dagli ultimi raggi del sole e si dirigono alla fattoria di Laurentiis il dottore ragazzi che stiamo cercando che come vi ho già detto all'inizio nella intro secondo me sa qualcosa che sapeva anche la madre e che trasporta Hugo allora o è una sorta di cura per questi ratti perché non sono cioè diciamo non è peste normale ok dobbiamo cercare Laurentiis giustamente bel posto è la fattoria? speriamo carino il posto però eh raga carino davvero vabbè possiamo anche correre sì ok a me è davvero uuuh l'inquisizione sono passati di qua raga aia speriamo bene ok mi sa de no vediamo un attimo aspettiamo che se ne va eeeh vai si vai vai fai a sentire che cos'è secondo me così ci scopri però eh ah no si si ok ho capito ma come se ritorna indietro possiamo passare sicuro ok è tutta una questione di tattiche di furtività raga eh lo vedo che è sta roba qua ma hanno capito sta parlando solo ah ok ce l'ho il vaso ce l'ho lanciamolo sentito il vaso vai 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 a vedere che cos'è il vaso eeeh tanto è rotto tranquillo ok fino a qui ci siamo non possiamo passare da lì dal ponte ok possiamo scegliere la diciamo la strada non c'è niente più bene eeeh vai no vabbè dai oh zitti zitti che è passato zitti no vabbè muore no vabbè che culo raga arrivo 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 cioè no cioè vabbè ok diciamo che ho sbagliato io perché ci avevo ancora equipaggiato eeeh il vaso quindi si ok 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 vai non lo vedi no come aiutalo però questi cioè cioè a me mi danno una spatata sono morto sono morto eh dai che cazzata è allora prima facciamo una cosa allora facciamo così ah sì ah sì ok prima cioè prima li distraiamo ragazzi e poi mandiamo Yugo là ok è passato vai vai a vedere che roba è tranquillo è un sasso è un sasso ad alto devo aumentare i vasi che trasporto altrimenti sono fregato è parecchio la nostra sorella maggiore vabbè comunque noi dobbiamo andare ok prendi tutto non l'avevo visto ma non posso andare nell'acqua eh abbiamo un problemino allora moltissimo si è messo là sopra ah ma ne sono due poi eh e adesso ok cammina quindi dobbiamo abbraccare il momento giusto non so che giro faccia questo però ok si ferma lì e torna indietro sicuro ok sì quindi noi ce la sfincoliamo di qua aspettiamo un attimo che se ne va il tizio lì se no addio va per tanto è girato oh sta girato sì altro vasetto io me sbrigavo io me sbrigavo brava un tavolo un tavolo da lavoro raga che culo che culo allora custodia morbida sacca munizioni 10 munizioni munizioni vabbè dai facciamo questo non so se posso fare altro ma mi sa di no no per ora no va bene ora che siamo di qua però c'è donno si cosa ha fatto perché mi stanno cercando eh boh non lo so manco io guarda parecchio ok ok siamo dall'altra parte però noi dobbiamo andare verso la fattoria che stava di là però mi sembra non vorrei sbagliarmi hugo 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 dove sei hugo non è lucido hugo hugo ma come buh ho dovuto in colpo l'inquisizione è qui hugo vuoi quelli che ti prendi non non nemmeno facciamolo ok ok sono qui ok dobbiamo raggiungere la fattoria lassù e non è facile regà voglio andare un attimo dentro a sta casa se mi ci fa andare ok grazie oh parecchia roba allora ciao galline passiamo da qua così non ci vedo non è l'erba alta eh lo vedo che sono ovunque quindi ma così li attiro tutte e due quindi facciamo così eh vabbè quello non l'ha preso vabbè sti cavoli poi mi sono rimasto senza vasi e questo è un male molto male non ci vedono non ci vedono ok i sassi brava vabbè non ci arriverò mai di là cacchio però devo farli con tutte e due ok facciamo una cosa aspettiamo che si gira cioè che quello che quel soldato arrivi da questa parte qua così li attiro entrambi dovrebbe mi apro quella cassa e me ne vado di là mi sembra un piano molto affidabile raga quindi vai ma fai attenzione che bastardino non me l'aspettavo non me l'aspettavo raga niente 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 ok vabbè quindi ne attiro uno e basta aspettiamo se no dovremmo esserci sbrigate sbrigate oh mio dio uff per poco ho visto dei nostri lungo il sentiero vabbè morto stecchito ah ok eeeh mi sento che andate qua come è fatto oh cazzo eh tocca a correre eh vabbè dai cioè non è che potevo correre all'infinito ahah a me si è muo che poi colpisce la persona a me cavolo oh c'è qui dove vai scemo sei un pazzo sei un bambino pazzo ok ok o comunque sono cavolo però dovevo aspettare che si girava Penso che si Aspettiamo che si giri E gira te dai Oddio quanto te ci vuole Vabbè se gira più Ah mo si brava Vai 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 a vedere che cos'è Guarda il sassetto Ok dobbiamo raggiungere quella porta la sicuramente Perché la fattoria Oddio che è questa Si che sei matto Spostate Cioè potrei tirare un vasetto eh raga Però È spregato Cioè perché si gira da solo Bisogna solo aspettare Però È quello olfatto Che se non si sbriga Mi sarà il vaso Ma io voglio tirare un testo Bravo Vedi che mi ascolti Come 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 ci sei riuscito Oh Brutta storia Brutta storia Brutta 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 raga Vuol dire che tra poco arriveranno i topini E saranno dolori Eh già Vai Oh oh che è Secondo te che sta succede I topi Sicuro C'è un motivo Perché lo fa no Eh Non so che fa male La medicina non ce l'abbiamo Pure Vabbè E tanto muoescono i topi Guarda eh Beh c'è un motivo perché non devi uscire di casa no Credo Lo so ma non c'è Dai Per quanto devo camminare con lui in braccio così Ok penso che siamo arrivati così Il mulino di Laurentiis è laggiù E colla Molto pericoloso E beh E secondo te che è successo E lo so che ti fa male la testa E' schifo eh E' pulito la buona passa qui Oh cazzo No 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 Dai Ho preso l'unico bordino dove c'era quel coso C'è Impossibile Non ci posso credere Non ci posso credere Ecco perché c'era tutta sta fagga Sta venuto E ora scappano fuori E c'è Eh non lo so manco io Sto là Zitta Zitta Tocca a correre e basta La doccia la doccia Guardi 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 Che culo Sì eh che culo non parte male Guarda quanti Ho detto io che c'erano Ok Ok Scorta di sassi Eh Ah ok Ciao Dobby Dai che schifo Ma che uccisi dall'inquisizione Guarda sono tutti magnati Sono stati topi no Scemo No vedi stanno tutti lì Ah bene 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 La gestione non mi piace già Non so se possiamo accenderlo lì Sì Noi lo accendiamo qua Andiamo Non te spenge Se no fa una finaccia brutta brutta Ok Giusto Buono Bambini dove devo andare Ok fin laggiù Dio quanti ce ne stanno Regà Sono troppi Guarda Eh ma devo cercare di non passare nel fango Perché se passo nel fango mi rallento E Aia Si sta a brucià Si sta a brucià Ok Buono Tessuto Eh No voglio Questo Tessuto Ok Ora possiamo spingerlo Ah ma lo guido proprio Bene Spingi spingi Perché sono carnivori Sti topi Si per attirare i ratti Sicuramente Non molla Non molla Non molla Non parlare Pushe Pushe Non parlare Pushe Oh Siamo arrivati Meno male E qui dopo L'hanno bloccati Ciao Ciao L'ho 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 Ma 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 se non è L'ho 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 Pensate di Sì Sì E che cazzo E' scemo 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 San nido Ce l'abbiamo Al massimo Cioè E' finita la fattoria No So galline Maiale E' chiuso Ok Ah C'è un'altra porta Di qua Vediamo un po' Magari E' scemo E' scemo Amicia Una fia E' Ugo Non è proprio C'è tempo Sì 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 Ok E' scemo Si 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 non so perché hanno sti fiori però vabbè a sto punto raga dovremmo andare sopra qui alla stalla perché noi siamo andati da là la stalla però ci buttava fuori di qua mi sembra vediamo un po' questa non credo che si apra no infatti vabbè dobbiamo cercare un attimo di vedere che c'è là sopra perché c'è una specie di finestra poi sti stupidotti non corrono quanto l'odio c'è che tu me porti qua sopra no io quello vorrei capire che senso c'ha lo stasso laurentis sempre se c'è qualcuno qui secondo me lì a quella porta lì perché è troppo strana con la porta non si apre non si apre brutta questione raga brutta questione ma per questa è la casa comunque si ma non l'apri ma forse qua qua non l'ho visto già che sta aperta già tanto non mi piace questa situazione forse quella porta là il cavallo vediamo un po' che dice oh beh sono lì fermo non si muove gallina senti eh sarà una porta questa no c'è un muro mi sembrava però ah yugo giusto vai tu sei piccolino buono posso creare attrezzatura ancora rischiare causerà meno rumore c'è qualcuno che sta crepando chi sarà yugo si dico yugo dico dottore laurentis già ho capito quei pusiotti lì sopra già ho capito guarda dimmi che sei qui oh un altro bimbo si però perché cercavano lui un bimbo un bimbo un bimbo si tratta in il sangue in il suo sangue la tua madre e io abbiamo provato a diminuire il suo progetto ma dopo il grande ruolo il processo si è riuscito devi proteggerlo continuare il lavoro della tua madre me? ma come? i miei bambini hanno cercato e ora sono tutti morti lasciami solo si ma lui che c'entra? sono qui i piedi sono pericolosi ma disorganizzati l'inquisizione però si ma perchè? a che gli serve? la shadow d'ombra lo cazzo è lo cazzo è l'Ignifer che è lancia fiamme? cioè che è? come Hugo io non voglio che resti qui il materiale del granallo andiamo uuuuuh ok fermo fermo ci penso io che i so forti le due 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 aspetta vado e non posso chiuderli Yugo Yugo Eh Che devi far stupidotto così Dai Si vabbè Vabbè Guardando di vent'anni qui Oh Eh Che sta a fare Una scef Una scef Una scef Una scef di carne Viva o morta Ah Dove cacchio la più la carne Ah Ok Oh Ma avevano quasi preso Si Gli davo da mangiare Diciamo di si Sì Dillard time piggy Yum yum Beh Contento Eh Yugo è contento Ma quando avete morì Oh Oddio quanto rito Sì 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 Let's go Hugo 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 Listen You can Succa se ti piace Ma Stay close Ma perché il broncio Vabbè A parte che gli ha dato addosso Quindi Oh Chi è che posa lì Ok Eh Guarda D'altra parte Ok Eh Muove Eh Ho capito O noi O lui Quindi No eh Ah per sta cosa Sapevo che c'era qualcosa lì sotto Rega Vorremmo sarti una cosa Eh aspetta Fa una via un po' di roba Ah Polveria da sparo Polveria da sparo Polveria da sparo Ok Tu sei Eccolo Fallo lentamente Non è pericoloso Ok Ora puoi creare Il mio ferro Oh Posso creare il fuoco Dove voglio Sicuramente Cazzo Finale il braccio Nel centro della stanza Oh Picchia forte 10 al massimo Ok Proiettili Artezza le bracci con l'inifer Ok Oh Ratti Ah ok Vabbè Namo sopra Giusto Sali Veloce Oddio rega Sta parte Sta diventata Parecchio lunghetta Però Interessante Interessante Perché Non me l'aspettavo Che Non me l'aspettavo Cazzo Cazzo Ok scendi Ok E' giusto E' giusto Dai Dai Hugo Su Non mi toccare Cazzo Cazzo No dove E' scemo Ecco Addio Laurentiis Rega E' successo Un casino Bene E' mostrata Sola Con due bambini Bene E' mostrata Solo con due bambini E' un bambino E' un bambino E' il tempo di andare Hugo Lucas Dai E' Rai Abbiamo bisogno E' un bambino E' Inverso Luca E' qui E' qui E' qui Vai, vai, vai così Preso Oddio, troppi ratti Emo? Andiamo con la fionda Ok Preso Ok Uccas, questa via Sono due, vai Corri, corri, corri Cazzo, è tutto buio qui Eccola la Succedendo di nuovo, quanto sei stronzo Yugo Però stavolta me la tagghi a mano, che paura Tutti su una bacchetta, vai Bello Ciao Tobi Guarda quanti ce ne stanno Fa impressione Che poi non si sa ancora Perché hanno paura della luce Che è più che altro del fuoco No, apesi luce perché Anche le lanterne Bene ragazzi Siamo arrivati al capitolo 5 Il bottino dei corvi Ok bene ragazzi Anche per oggi questo video finisce qua Come sempre vi ricordo di lasciare Un pollicione, di commentare e di condividere il video Se non vi siete ancora iscritti Al canale iscrivetevi Per seguire tutti i miei Wallthrough video, creditisti e tutto quanto Tutto il resto Comunque Questo capitolo è stato interessante Perché ci ha fatto sbloccare L'ingifer Che sarebbe Un tizzone Cioè Diciamo della polvere da sparo Alla fine Perché la butti Nei tizi Del fuoco E Prende fuoco subito bene Quindi È molto utile È molto utile E più andiamo avanti Sicuramente ci farà sbloccare Delle cose Aggiuntive E più il gameplay Diventerà complesso Raga Comunque Dal vostro Stefanozzo Questo è tutto Un grande saluto E noi ci vediamo Nella massima puntata E noi ci vediamo